18 milioni di euro di cui programmare l'uso, la destinazione e gli effetti. 18 milioni di euro per dare alla Mezzia delle chance, quelle di diventare una città più inclusiva da un punto di vista sociale, ma anche più sostenibile. L'impianto preliminare del programma Agenda Urbana e che riguarda l'investimento dei fondi POR 2014-2020 è pronto ed è stato presentato alle associazioni del territorio con l'obiettivo di arrivare ad un tavolo di partenariato. Poco il tempo a disposizione, entro fine marzo la Regione Calabria aspira ad avere chiuso tutte le agende urbane, tanta la carne messa al fuoco. Gli ambiti individuati sono due, la crescita sociale ed inclusiva da una parte e la crescita equilibrata e sostenibile dall'altra. Questi due ambiti strategici prevedono delle azioni specifiche che vanno dal sostegno alla creazione di impresa per le fasce giovanili, politiche di conciliazione per le donne e sostegno ai soggetti svantaggiati. E poi si prevedono una serie di azioni più mirate all'aspetto dell'equilibrio dello sviluppo e della sostenibilità attraverso interventi di mobilità leggera e di consentire un maggiore accesso ai servizi a tutte le parti della città. Pizziana ha bagnato per la Cineus 24.